Ciao ragazzi e bentornati da Capitan Mandana, siamo qui per parlare brevemente della puntata numero 9 dell'ottava stagione di Arrow, ci interessa infatti focalizzarci sul capitolo conclusivo. Questo invece è un buon punto di partenza per Arrow e Recanaris, con un bel espediente che fonde le linee temporali, costringendo i caratteri a fronteggiare un io bipartito, un io che dovrà più volte volgersi indietro ed osservare una storia spezzata proprio dal cambiamento temporale. Non sarà semplice sviscerare una trama così contorta, speriamo che tutta questa elaborazione non comporti il conseguenziale e classico buco di trama dell'Arroverse, abbiamo una fotografia che ricorda quantomeno a tratti le prime sequenze proprio di Arrow, un cast non d'eccezione ma che fa il proprio lavoro, le protagoniste si dimostrano degne del ruolo che viene attribuito loro, ci siamo, credo che tutto sia al proprio posto, il dinamismo si fonde con il dramma, scelte di regia che sono quelle classiche, non c'è tanta autorialità da questo punto di vista ma cosa vogliamo aspettarci, certo è che anche il rapimento di William ci avrebbe un po' scassato i coglioni, visto che poi ce l'abbiamo anche nell'ultima puntata, che sia grande o piccolo, questo non finisce mai nella posizione giusta, è sempre nei guai, era già successo anche che venisse rapito da adulto, se non erro in totale è stato kidnappato, utilizziamo il termine inglese, sei volte. Porca di quella mignotta, per non utilizzare termini ancora più forti e per non esternare troppo vehementemente la mia rabbia. Questo è quanto ragazzi, non credo di dover aggiungere altro, non è neanche una recensione, era un tentativo di chiarire che cosa possiede questo prodotto molto brevemente, mi interessa troppo parlare dell'ultima puntata, perdonate, se perdonate mi sono stato sbrigativo, ciao.